ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono john redd e oggi parliamo dell'isola dei famosi 2021 terza puntata ilary blasi rivela per sbaglio l'esistenza dell'isola parasit island è andata in onda una nuova puntata dell'isola dei famosi programma condotto da ilary blasi quest'ultima si è resa colpevole di aver fatto una gap in diretta che potrebbe cambiare alcune dinamiche del gioco ad inizio puntata anche thomas zorzi era quasi cascato nella gap ricevendo poi dalla conduttrice anche un riprovero infatti thomas zorzi dopo la eliminazione di akash kumar gli era scappata la frase speriamo che decida di rimanere al parasit island frase che fortunatamente non è arrivata ai naufraghi visto che il collegamento era chiuso a differenza di ilary che la gaff l'ha detta in comunicazione con i naufraghi infatti ilary blasi alla proclamazione della squadra vincente alla prova ricompensa ha esclamato riferendosi a brando giorgi la tua vita con i raffinados è durata a breve come ferdinando sull'isola parasit island frase che i naufraghi non hanno forse capito ma vedremo nelle prossime ore se hanno capito l'esistenza di quest'isola e voi avete visto la terza puntata scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da jorent periodi no 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 Grazie.